Questo dominio fascista non risparmiava nemmeno noi bambini. Ecco, la scuola fa un concorso, il più bel disegno. Io sono brava, in disegno ero veramente brava. E poi, guarda, ironia della sorte, avevo fatto un bel fascio con una bella corona di alloro attorno. E dipingerlo, cioè colorarlo con i pastelli, se non hai le mani abbastanza ferme, cioè, ecco, se non stai attenta, non viene un bel lavoro. Invece la cosa era diventata veramente bella, per cui fu valutato il più bel disegno delle scuole elementari di Castelnuovo sotto. Ci chiamano al teatro Ausonia, allora c'era per il premio, il Podestà avrebbe dovuto venire a premiarci. C'era presente, perché in tutte le iniziative era sempre presente tutta la gerarchia dei fascisti, no? Premiano i bambini, io sono l'ultima perché ho il primo premio di tutte le scuole. Mi chiamano, io vado su per la scala, arrivo sul palco. Il dottor Ganassi, questo lo devo dire, perché era un amico di famiglia, e io tutte le sere gli portavo il latte di una mucca che praticamente aveva allevato anche tutti noi, perché lui aveva un bambino, non riusciva, gli morivano tutti i piccolissimi bambini, e noi gli portavamo questo latte. E lui dice, ah, ma te non hai la tessera piccola italiana? Dico, no, papà non me l'ha presa. Ah, beh, allora il premio non te lo diamo. E mi manda indietro. Una bambina di 10-11 anni, come fa a spiegarsi che vale, come fa a capire che vale più una tessera che la sua capacità di operare, di studiare, di essere brava, eccetera? Io sono andata a casa piangendo, mia madre se ne stava dando da mangiare i maiali, poveretta si è trovata, la colpa è tua, non ho avuto un premio perché non mi avete presa la tessera, no? E lei mi ha dato un bel marrovescio e ha detto, adesso almeno piangi per qualche cosa. Forse in quel momento si è trovata in difficoltà a darmi una risposta. Anche perché i genitori stavano molto attenti a parlare con noi bambini, perché il bambino facilmente gli scappa, detto, anche con altri, e non si poteva, cioè se tu dicevi male dei fascisti, c'era rischio e pericolo che se lo esprimevi fuori dalla casa, ecco, i genitori venissero puniti. E per cui anche nelle stalle, quando parlavano, dicevano, ragasso, wecker, guai seggi quel, cioè bambini state attenti, non dovete dire niente di quello che sentite in casa. Per cui fin da piccoli sapevamo che dovevamo tacere, che era pericoloso per noi e per la famiglia fare qualche cosa. Poi io vengo a Reggio. La famiglia si sposta a Reggio perché i ragazzi studiano. Cioè mio fratello aveva fatto il ginasio a Parma, in collegio a Parma, e cominciano, c'è l'esigenza di avvicinarsi alla città. Hanno comperato una casa lì in via Dalmazia. E anche per me la vita cambia completamente. Perché dalla tradizione, dalla cultura contadina, che è fatta di conservatorismo, di tradizionalismo, per cui stai attenta a quel che dici, chissà che cosa dicono. Ecco, poi le donne costantemente considerate una nullità. Infatti taci che sei una donna. Ma lo sentivo dire anche in casa mia. Mia madre, poi poveretta, ne aveva un culto di queste cose. Qui incontro invece le donne che vanno a lavorare e soprattutto via Dalmazia, è una via dove abitano la parte, direi l'elite operaia della città. Vi erano i tecnici delle Reggiane, i tecnici del gas, i tecnici dell'acqua. Cioè, c'è un tipo di classe operaia molto consapevole, molto matura, molto preparata. E gli anziani, siccome io sono sempre stata molto curiosa, io, siccome avevamo un ristorante, loro si chiamavano Trattoria, e avevamo il bar, il gioco da bocce, eccetera, io, pur ragazzina, perché siamo venuti nel 1938 a Reggio, avevo appena 17 anni, ero estremamente curiosa, e gli uomini anziani mi avevano preso benvolere, hanno cominciato a spiegarmi quello che io non sapevo relativamente, cioè cos'era praticamente il fascismo, che per me era solo violenza, era solo ignoranza, caratteristiche peculiari del fascismo, ma esisteva anche una ragione dell'esistenza del fascismo. e hanno cominciato a spiegarmi questo. Loro erano la maggior parte socialisti e comunisti, ecco, io ho cominciato a capire, ad avere una dimensione diversa della realtà e muovermi di più in questa dimensione. Allora, qui, siccome io ero sempre nel bar, i giovani che venivano eravamo diventati amici. Quando sono partiti per la guerra, io ero diventato il loro punto di riferimento. Ti scrivevano dall'Africa, ti scrivevano dalla Francia, ti scrivevano dalla Russia e ti chiedevano notizie dell'uno e dell'altro. Cioè, io ho cominciato praticamente ad avere una dimensione della guerra diversa di chi poteva avere solo la corrispondenza con i familiari, con i ragazzi della famiglia.